Util a Cava dei Tirreni, prodotti e attrezzature per officine per il fai da te. Contattaci al 393-9305-256. In attesa che la Cavese completi tutti i test per poter escludere altre positività al coronavirus, il mercato degli aquilotti comincia a muoversi. Proprio ieri la società del presidente Santoriello ha infatti ufficializzato l'ingaggio, con la formula del prestito, di Paolo Cannistrà, il classe 2000 che di ruolo è un difensore centrale, ma può anche disimpegnarsi come terzino. Il giocatore calabrese arriva in prestito dalla Spal e con la formazione primavera ferrarese è stato un titolare fisso nell'ultimo campionato di categoria, indossando, alle volte, anche la fascia di capitano e segnando anche tre gol. Proseguono quindi i buoni uffici tra la Cavese e la Spal. I metelliani un anno fa presero in prestito dal club Emiliano l'esterno destro Riccardo Spaltro e il giocatore rese molto bene, segnando anche tre gol, meritandosi quindi la convocazione per il raduno precampionato della stessa Spal. Quindi la Cavese proverà a vincere anche la scommessa Cannistrà. L'ufficializzazione dell'aggregazione del giocatore alla Cavese già in questo mese di agosto è stata resa possibile anche perché la trattativa era già fatta da qualche settimana ed è lo stesso motivo per il quale la Turris ha potuto già prendere in rosa l'attaccante Salvatore Sandomenico, proprio dai Biancoblu. Il fantasista degli Aquilotti, Miguel Angel Sainz Massa, interessa al Gubbio che proverà a chiudere in questi giorni mentre Simone Addessi, attaccante esterno, è richiesto dall'ACR Messina, una delle due società di Messina iscritte al campionato di Serie D ed era tra i precettati per il ritiro precampionato che la Cavese dovrebbe effettuare a Nusco. Intanto la Lega Pro ha annunciato la data di effettuazione del sorteggio dei calendari per il campionato di Serie C 2020-2021 che, a meno di sorprese clamorose legate ai tempi necessari per disputare tutto il campionato stesso, vedrà ancora tre gironi da 20 squadre l'uno. La Lega di Firenze conta di procedere alla compilazione il 10 settembre prossimo presso il Salone d'Onore del CONI di Roma. Infatti il 27 agosto scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Alla finestra c'è il Foggia che potrebbe sostituire il Bitonto qualora quest'ultimo venisse rispedito in D dalla giustizia sportiva. Ci sono anche Gianna, Irminio e Ravenna che prenderebbero il posto di Leonzio e Siena. E c'è anche pronto il Legnago alla sostituzione del campo d'Arsego che non si è proprio iscritto. In bilico anche la posizione del Picerno accusato di Combin così come il Bitonto e anche la posizione del Trapani che ha una forte esposizione debitoria. In questo caso restano alla finestra Rende e Rimini per essere riammesse in C.